Amira e Elena sono le vincitrici di questa sfida Amira, Nelly e Elena Ok Prima posizione Amira e Elena La posizione è questa No Ma dove sono le gambe Come dove sono le gambe Ma no, è facilissima Devi tenere una gamba così e nell'altra tesa Ok, facilissima Grazie 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 a tutti. Direi pari merito in male. Pari merito in negativo ragazzi. Zero punti, zero punti. Siamo 1-0 per Nelly e Amira. Chi deve pescare? No. No, al mare non è. Ah ma il po' c'è... Io faccio questa e tu... Sicura? Ma quando sai Nelly non so se ci conviene se c'è la verticale perché... Nelly da non ci arrivi al mestiere. Livello di difficoltà 200, va bene. No, no. No, no. super dai direi che è perfetta quasi a noi abbiamo fatto livello estremo livello estremo però era più simile alla loro giusto si concordo uno pari dobbiamo pescare la quarta dobbiamo pescare la quarta dobbiamo pescare la quarta va bene direi ragazze il punto era Nelly e Amira appunto due a uno per Nelly e Amira dobbiamo pescare la quinta con la mamma povera non volevi uccidere Nelly sei viva Nelly e Amira appunto mi ha scelto mi ha scelto Amira e Nelly tre punti tre punti la Chiara è disperata non è vero andiamo via l'ultima ragazze cosa siamo tre a tre a uno direi che ormai avete vinto però facciamo anche la sesta dai posizione oddio ma con la Nelly è facile ma la Nelly mi deve schiacciare le tese e la guarda sceglie ma che non ne non è Grazie a tutti Grazie a tutti Wow E la seconda parte si conclude con la vittoria di Amira e Nelly E ci vediamo nella terza parte Ciao 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 Ciao